Questi sono i nuovi Scarpa Zodiac TRK, lo scarponcino da trekking impegnativo, trekking roccioso di casa a scarpa. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di questi Zodiac TRK, perché qui troviamo una classica Vibramont. Vibramont che è la mescola più utilizzata su tutti gli scarponi da trekking impegnativo e d'alpinismo, una mescola che a livello di performance è abbastanza dura e va bene un po' su tutte le superfici. Dal trekking più semplice al trekking su roccia, attenzione magari alla roccia quando è bagnata e particolarmente liscia, che lì magari non è il migliore, però a livello di grip diciamo che è davvero simile a tanti altri scarponi. La cosa però che mi piace molto di questi scarponi è la tecnologia bascula di Active System che ha utilizzato Scarpa, ovvero una tecnologia che fa sì che il tassello possa andare a deformarsi e ad adattarsi al terreno su quale stiamo camminando. Infatti se dovremo andare a camminare su terreno roccioso, dove ci sono tante roccette e dove ci sono tanti spuntoni, ecco che il tassello andrà ad adattarsi alla forma del terreno, in modo tale da darci il migliore grip possibile. Una tecnologia che abbiamo visto già sui fratelli maggiori e le storie minore di queste Zodiac che lavora sempre molto bene. A livello di durabilità poi la Vibramont innanzitutto è facilmente risuolabile. E soprattutto poi, essendo una mescola abbastanza dura, durerà sicuramente a lungo nel tempo. Arrivando a parlare dell'intersuola, questo è un'intersuola innanzitutto abbastanza rigido. Non è un rigido puro, diciamo che è a metà tra un semiricido e un rigido. È uno scarpone poi che ha un'intersuola abbastanza basso, con un'intersuola a doppia densità, alta e media densità, a motale da garantirci sicuramente un'ottima percezione del terreno e un'ottima rigidità. È uno scarpone col quale personalmente magari non farei delle escursioni veramente lunghissime. Diciamo che un'escursione quando siamo sulle 6-7 ore sicuramente basta, non eviterà di andare oltre 10 ore, perché comunque la sua rigidità sicuramente non aiuta molto con la basculazione del piede. Uno scarpone però che dal punto di vista della rigidità offre un supporto veramente ottimo. Un supporto che ci garantisce veramente un'ottima stabilità quando andiamo poi su roccette, su rocce, quando dobbiamo lavorare con la punta dello scarpone, grazie anche alla grande climbing zone che c'è sulla suola. Ecco che dal punto di vista poi della stabilità e della precisione questo intersuola gli dà veramente un ottimo feeling. Arrivando invece alla tomaia iniziamo a parlare del puntale, che qui troviamo un puntale veramente rigido, un puntale che se ci prendete a calcio la roccia non sentirete assolutamente nulla. La tomaia in sé poi è in pelle, ma esiste anche la versione LT di questi scarponi che è la tomaia in sintetico. Questa tomaia in pelle diciamo che è abbastanza classica, una tomaia in pelle che tende sicuramente ad essere un pochino più termica rispetto che traspirante. Se lo volete traspirante al massimo, sicuramente il modello LT con tomaia in sintetico sarà sicuramente la scelta migliore. A livello poi di tomaia in questo caso è una pelle fatta molto bene, ben duratura, non mi ha dato nessun problema. E comunque troviamo una classica fodera in Gore-Tex nella parte esterna per permetterci di passare qualche ruscello senza bagnarci il piede. Passando invece al tallone, qui troviamo un tallone di taglio alto, non è mid. Uno tallone sicuramente molto strutturato che non ci darà problemi distorte o roba simile anche quando andiamo su terreni molto tecnici. Un tallone però che nella parte superiore arriva a essere veramente molto morbido. Devo dire che anche farci delle camminate un pochino più classiche non sarà sicuramente un problema. Per quanto riguarda lacci e linguetta, è una linguetta molto classica, davvero molto classica, svolge in modo ottimo il suo lavoro. Lacci che arrivano fino in punto alla scarpa in modo tale da poter avere un'allacciatura simile a quella di una scarpetta. Quindi sicuramente un'allacciatura che aiuta molto a ferrare il piede. Mi piace sempre molto il passalaccio autobloccante, il primo nella parte bassa perché aiuta tantissimo a stringere lacci. E poi troviamo i due classici passalacci sul collo del piede dove poter finire la nostra allacciatura. A livello di grandezza io ho preso il mio solito numero di scarpa ma l'avampiede è abbastanza narrow. Un avampiede che devo dire comunque mi è piaciuto perché come vi dicevo restituisce un ottimo feeling quando andiamo a lavorare di punta. Quindi da questo punto di vista sicuramente io non ho avuto bisogno di prendere una mezza taglia in più o una taglia in più. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio questi scarponi e soprattutto dove utilizzarli. Secondo me questo è uno scarpone per persone intermedie esperte soprattutto perché è il terreno dove è meglio utilizzarli sul terreno roccioso, terreni difficili, vie ferrate e via dicendo. Non è sicuramente uno scarpone da prendere e andare a farci una camminata molto semplice, una camminata su single track dove troviamo magari dei sentieri abbastanza semplici. È uno scarpone da tecnica, uno scarpone col quale andare su sfasciumi, su roccia, vie ferrate appunto. Uno scarpone che ci garantisce la sua miglior performance quando il terreno si fa, veramente duro. A livello poi di terreno come dicevo è sicuramente la roccia, anche roccia bagnata a patto che non sia troppo liscia però a livello di grip la suola non presenta nessun problema. Infine arriviamo alle conclusioni per questi scarpa Zodiac TRK in secondo dal prezzo perché scarpa li vende a 300 euro, online si trova già a qualcosina meno. Diciamo che è un classico prezzo di questo tipo di scarpone. È un prezzo che magari sui 300 euro venduti direttamente dalla scarpa sono un pochino alti ma visti i prezzi online nel quale lo si trova poi arrivano ad essere sul classico prezzo di mercato. È uno scarpone che comunque pesa 660 grammi, una taglia 42 da uomo quindi in linea con tanti altri scarponi simili quindi diciamo che da questo punto di vista è abbastanza in linea, allineato con i suoi competitor. E tu ciao ragazzi, speranza sia stato esaurimento di sostegno anche per questa recensione, vi ringrazio che la guardate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!